Un'altra magistrale invenzione del grande Ennio Morricone per il film Mission. Grazie alla colonna sonora di questo film, Morricone vince il British Academy of Film and Television Arts, il BAFTA. Il Golden Globe ed ebbe una candidatura all'Ostar. Padre Gabriel è un missionario gesuita che dopo una faticosa scalata delle cascate dell'Iguazù in solitaria, raggiunge una tribù di guarani ancora allo stato selvaggio e riesce ad avvicinarli grazie alla musica del suo oboe. La filarmonica di Alpignano è il solista Daniele Boero al flauto, diretti dal maestro Silvio Franchino in Gabriel's Oboe. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.